bene ciao monica siamo qui con la nostra amica papavero ciao ciao papaveri e papere 5 4 3 2 1 mi mostra una scena che sembra un po quasi suggerirmi la sua infanzia c'è una strega una strega cavallo proprio di una scopa di saggina che fa presagire a delle percosse con con questa scopa e allo stesso tempo fa presagire il fatto che a lei verranno dati vari incarichi no per portare avanti la famiglia lei si dovrà sobbarcare diverse responsabilità compiti di vario tipo fisico e anche emotivo ti dà l'autorizzazione si vedo papavero adulto adulta e dice che è assolutamente vuole mandare via questa strega uscire da questo schema che dura da troppo tempo terza sessione di papavero vibrazione 9 miliardi consapevolezza 165 anima 43 vite precedenti mille 102 cervello 9 suscettibilità ipnotica 48 progetto di papavero mi viene big bubble all over mi fa vedere questa gomma da masticare con cui viene fatto un palloncino e questo palloncino quindi questa gomma appiccicosa questa pellicola appiccicosa è come se andasse a coprire papavero e la sua vita sicché lei rimane immobile non si può muovere proprio perché è bloccata diciamo così da da questa sostanza appiccicosa e allo stesso tempo quando intervengono i vari parassiti si appiccicano rimangono appiccicati e non se ne vanno via più parassiti che sono anche le situazioni e non solo le persone interferenza eterica mi viene un leone una leonessa come se fossero una coppia bellissimi perfetti irraggiungibili che come se le facessero vedere quello che lei non ha avuto come genitori e che lei non è riuscita ad avere come coppia quindi lei in compagnia di un altro uomo non è riuscita a raggiungere quello e poi un polipo che mi suggerisce un po questa idea sempre del secondo universo questa idea così di invischiamento questi tentacoli che la controllano non le permettono di essere davvero libera e anzi la tengono completamente bloccata dove lei non vuole essere bloccata basta sì 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 edl sì due 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 edl entità mentali due me ne vengono una è padre o padre proprio come una sorta di invocazione fatta anche però con una sorta di timore e di distacco non lo chiama papà padre e questo come livello potrebbe essere un adesso che è grande e che ha elaborato tante cose direi a un livello tre a volte quattro quando ovviamente nel passato si era otto nove c'era proprio il terrore anche dell'imprevedibilità di questo uomo nove tutta la vita girava intorno a quello poi secondo e l'altra è proprio parassiti mi mostra come ci siano una serie di circostanze e di persone che fanno uso dell'energia di papavero è proprio come se fossero tanti parassiti che vanno su questo papavero e assorbono ciò di cui hanno bisogno per cui lei si mette da una parte lei a disposizione per risolvere tutti i conflitti emotivi tutti i vari compiti da svolgere e dall'altra parte le altre persone prendono molto di più di quello che lei vorrebbe offrire e c'è questo circolo vizioso lei non riesce a uscire e quattro cinque il primo che mi fa vedere è sulla vagina come se ci fosse lei alcuni aspetti della vita bloccati penso anche quello è un po' come se non riuscisse a collegarlo al piacere se lo nega un po' questo appartiene anche un po' a una serie di obblighi di divieti che gli provengono dalla famiglia e poi c'è come una specie di spazzola eterica che gli fa a volte anche quasi un po' gli provoca quasi anche un diradamento di capelli tanto avviene in maniera energica questo spazzolamento e le provoca proprio questo spazzolamento una sorta di chiusura del pensiero ok l'impossibilità di uscire da quel circuito di credenze di pensieri di schemi poi dita del piede destro e basta nome della ps ma zart ma zart nome nome della pie il pianoforte entrambi entrambi attenenti alla musica perché e sì su pianoforte mi dà anche il contrasto lei è proprio caratterizzata dai contrasti da un lato estrema luce dall'altro proprio il buio più oscuro perché lei appunto potenzialmente e soprattutto in alcuni momenti riesce a tirar fuori una luce spropositata però poi fondamentalmente rimane legata a delle situazioni buie incombenti molto opprimenti legate alla musica come se la musica fosse proprio un linguaggio della sorgente e siccome lei è in grado di comunicare con la sorgente penso che abbia adoperato in questo caso la musica per farmi capire che lei ha la lingua conosce la lingua per parlare con la sorgente va bene andiamo con la volta in cui ha fatto per 20 giorni mi sembra una purificazione a base di dieta e saune alla fine della quale si è vista luce ha visto che l'epo tutto ha visto che lei è dio ha visto che lei è forte ha visto che lei può vivere nell'abbondanza nel nel completo distacco dalla famiglia si era proprio liberata dai parassiti dagli incubi del passato incluso proprio la nascita stessa e liberandosi da tutte queste parassiti zavorre lei ha ritrovato la sua essenza ed è stato uno stato di grazia proprio di beatitudine oserei dire samadhi quasi oltre quasi oltre il samadhi quello successivo ancora il kaivalia vedo che ha messo piedi in questa soglia del kaivalia ok andiamo alla nascita brutta brutta ma tutta brutta anche la gestazione e sua madre aveva già molte paure dubbi sulla vita che doveva condurre con il marito tanto aveva già compreso tutto quanto che sarebbe stato comunque un uomo molto difficile violento imprevedibile ingestibile questo ha fatto sì che ovviamente tutte queste paure della mamma assolutamente fossero presenti nel momento del parto e anche nei giorni prima del parto quindi tanto dolore tante difficoltà tanti ostacoli per questo parto vedo quasi anche papavero che rischia di non avere l'ossigeno sufficiente di fatto è proprio stato una situazione continuativa anche infatti dopo la nascita di mancanza di mancanza di ossigeno in un certo senso sì di difficoltà sì di difficoltà nelle cose primarie non poter proprio respirare respirare è il diritto che abbiamo tutti di farlo a pieni polmoni per lei non era neanche possibile tanto questo tanto che è stata per esempio affidata a una persona irresponsabile di da molto piccola vedo che comincia a respirare quando sta dai nonni però poi di nuovo ritornando in quella casa manicomio la definirei in cui c'era appunto tutto questo insomma litigi tra un busto così di nuovo torna con la mancanza diciamo così dell'ossigeno della possibilità di respirare la vita ok cinema chi viene dunque mamma è viva sì papà e anche le sorelle sorelle due sono sorelle vengono allora forse ce n'è una un po' più corrucciata dell'altra l'altra sembra quasi tra virgolette intimidita e anche incuriosita dal cinema ce n'è una invece che sembra abbastanza dura però dura anche molto provata dalla vita solo che essendo molto tra virgolette ignorante ok quindi che non ha compreso delle cose della vita è rimasta dura comunque viene la madre boh non so la vedo un po' lagnosa un po' sì che che si crogiola un po' ecco in cosa un po' in tutto da quello che può essere un malessere più piccolo a quella che può essere la vita trascorsa o che la sedia del cinema certo che non è così comoda per le sue stanche membra la luce magari che dà fastidi agli occhi causa esoterica Monica del fatto che hai chiamato la nostra amica tu papavero molto resistente è difficilissimo fotografare i papaveri perché hanno talmente questo rosso quasi che è fluorescente quando lo si fotografa che perde quasi i confini è uno di quei fiori che io credo che devi provare ripetutamente a fare l'inquadratura è come se perdesse i suoi contorni e lei è così perché lei è in grado proprio di espandere il proprio colore la propria luce poi alla fine il colore è luce in maniera incredibile proprio oltre i suoi confini fisici ok causa esoterica della sua dipendenza da una famiglia tossica e disfunzionale dalla quale lei non riesce a staccarsi ma lei fuma ho fumato fumi sì fuma fuma perché mentre parlavi di questa cosa disfunzionale tossica lei è venuta con la sigaretta quindi mi chiedevo come mai questa cosa allora mi fa vedere come siano rimaste delle lacune molto gravi alla nascita è come se le fosse stato richiesto nel momento in cui era neonata di essere adulta di essere già pronta ad affrontare una serie di situazioni di sofferenza di sacrificio di privazioni che chiaramente un neonato non riesce ad accettare quindi mi fa vedere tutte queste lacune e per esempio il fumo è un atteggiamento che lei ha per compensare queste carenze che lei ha avuto dalla primissima infanzia però è come se queste lacune fanno sì che lei rimanga sempre bambina ma bambina proprio infante quindi essendo bambina sì 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 non può staccarsi dalla famiglia perché come fa un bebè non è che può avere una vita autonoma no sua gestita da sé c'è una parte di lei chiaramente non è completamente papavero fatta così però c'è una fetta di lei che è un infante una bebè e quindi proprio per questo è impossibile che si stacchi poi in questo bebè ci sono anche degli aspetti più verso i 4-5 anni ma comunque sempre una bambina in cui ha molto bisogno lei di approvazione di far vedere che è brava di far vedere che è buona di far vedere che è capace di fare le cose che è disponibile che è una brava bambina e comunque ha sempre bisogno di farlo vedere a loro perché lei è una bambina ahi no ahi no causa esoterica dell'essere è stata poco allattata sì sì rientra in questa scelta che alla fine lei ha fatto di non avere il diritto di essere una neonata e quindi tra le varie cose di cui avrebbe bisogno un bambino sarebbe appunto l'allattamento sarebbe comunque delle cure anche costanti da parte del proprio genitore invece la mamma va subito a lavorare cioè lei si è proprio scelta questa totale privazione di quelle che sono le abitudini normali di un bebè già subito adulta appena venuta alla luce va bene vediamo la parte lavorativa lei sta per andare in pensione cambiano le leggi la facciamo diciamo corta questo succede almeno due volte però secondo me adesso funziona per come vedo io poi posso sempre sbagliare però in realtà adesso la cosa la sta sbloccando quindi lei ha sempre avuto bisogno anche di queste situazioni che comunque la bloccavano dove lei non si può esprimere non può fare ciò che lei vuole liberamente deve sempre lavorare deve sempre faticare però essendo che proprio la sua consapevolezza sta aumentando secondo me questa ulteriore richiesta andrà io vedo a buon fine abbastanza dice così ma qual è la motivazione per cui è rimasta sempre diciamo un po' indietro sì c'è questo polipo che ovviamente con i tentacoli le impedisce i movimenti decide il polipo dove lei deve andare il polipo decide che lei deve andare a lavorare e deve andare dalla famiglia ad accudire la madre assorbirsi le paturnie delle sorelle ok eventualmente c'è un altro tentacolo per sistemarla con un compagno che le farà passare le pene dell'inferno ecco tutta così tutta comunque questa vita anche sulla base del suo progetto no big bubble tutto sopra completamente bloccata bloccata e densa proprio di parassiti attaccati causa esoterica dell'essersi schiacciata il dito nel baule della macchina allora lì mi fa vedere come una specie di come se lei fosse rimasta paralizzata ecco come se lei abbia proprio avuto allora lei è sempre una donna molto forte no volitiva si occupa di un sacco di cose ha anche tanta energia e così via però in quel momento è proprio come se si fosse ritrovata ad essere una bambina che ha dovuto aspettare i colleghi che uscissero per poter un attimino risolvere la situazione è proprio come se lei e questo è un aiuto paradossalmente da parte della PS che le vuole far vedere ripetutamente come lei di fatto sia per certe parti rimasta una bambina che quindi non ha potuto cavarsela da sola ha avuto bisogno dell'intervento di altri adulti e gli ha proprio creato questa situazione come di paralisi chi? la PS in cui per mezz'ora lei è stata sospesa in balia del nulla lei si era chiusa sto dito qua e non ha potuto sbloccare da sola la situazione perché lei in quel momento era una bambina quindi la mamma deve pensarci no? sì arrivano gli adulti arrivano gli adulti che possono aiutare e risolvere la situazione ma come strategia della PS ok per mostrarle questo lo vedi che hai ancora una parte di te bambina che ha bisogno di un accudimento quello che non hai ricevuto e intanto vedo il leone e la leonessa coppia che è come se la guardassero con sufficienza come se le facessero proprio sentire il peso della coppia genitoriale che lei non ha avuto e loro invece sono due modelli no? due emblemi di perfezione bene andiamo con papavero a vedere come sono fatti dentro gli emblemi di perfezione magari papavero ne ha paura e si loro vorrebbero che lei avesse soggezione di tanta bellezza di tanta perfezione è come se lei potesse trapassarli perché comunque alla fine sono solo delle proiezioni dei semplici ologrammi non hanno una consistenza lei passa attraverso prima lo fa con la leonessa e rimane lei stessa sorpresa perché pensava che di incontrare la materia invece si rende conto di no che alla fine è una proiezione basta di luce è come se trovasse come cuore un piccolissimo quasi sassolino nero adesso va a vedere dentro se stessa è un caleidoscopio è proprio un tripudio di forme e di colori che mutano in continuazione proprio come quando si ruota il caleidoscopio e vengono fuori quelle immagini stupende quindi non è ruota no assolutamente anzi mi fa vedere come lei può passare dentro se stessa attraverso tipo ci sono delle montagne con i prati poi mi fa vedere che subito dopo c'è il mare poi c'è un vulcano poi c'è una spiaggia come un intero universo lei è un intero universo più universi sì che cosa siamo qui a fare oggi lo chiedo a Mozart la sua ps dice suoniamo la melodia della sorgente come mi fa vedere mi fa vedere che Mozart la ps inizia a suonare il pianoforte quindi la pie ed emette questa non so poi in realtà io sento anche l'accompagnamento del violino violoncello no c'è un'orchestra ed è una melodia che va a percorrere l'intera esistenza di papavero mi fa vedere che queste note vanno a carezzare la pancia della madre di papavero ed è come se nel momento in cui questa melodia sfiora questo pancione dà proprio un nutrimento di forza e di sicurezza alla papavero piccolina che ancora insomma deve crescere quello che non ha avuto quello che non ha avuto e mi fa vedere come questa melodia rimane costante spalmata su tutta l'esistenza di papavero solo che vedo che alcuni eventi della vita vengono modificati perché lei inizia a dire dei no a rifiutarsi certe situazioni non le vanno bene quindi arriva poi a una vita un po' diversa da quella attuale quale cioè come riesce a stare per esempio dai nonni più tempo il tempo che le permette diciamo così di consolidare una forza una forza di carattere ritorna un po' più grandicella dei genitori ed è come se il padre davanti a questa forma energetica che è papavero non riesce a comportarsi come invece si è comportato sull'altra linea temporale la melodia di cui è impregnata papavero fa sì che ci sia proprio un ambiente diverso in casa si dice che quando la madre non desidera il figlio il figlio la figlia avrà difficoltà relazionali è così per papavero allora la madre non ha desiderato cioè che lei non si senta da meno perché neanche le altre figlie voleva poi come madre potrebbe anche dire il contrario ma non ne ha desiderata nessuna perché sentiva ogni volta che era un maggiore legame con un uomo che ovviamente non l'ha mai rispettata mai amata mi sembra che neanche le altre due sorelle abbiano l'amore di un compagno al proprio fianco una la vedo più acida diciamo anche dell'altra quindi proprio che ci mette del suo per respingere un buon compagno no comunque non vedo armonia in generale in nessuna delle tre come vita sentimentale in effetti e qual è la causa esoterica di questo fatto mi fa vedere la mamma che spinge via lontano da sé ciascuno di queste bambine che in questa visione sembra un semino la spinge via con le mani ed è come se poi questi che sono semini che poi mano a mano diventano degli adulti sentissero sempre questa roba qui qualcuno che li tiene lontani e molto spesso si avvicinano a questi e li tengono lontani più loro trovano persone respingenti respingenti da diversi punti di vista più loro vengono attratte e quindi ovviamente poi ci sono tutte le occasioni di infelicità di approfittamento da parte dell'altra del compagno di abusi e questo avviene anche con i genitori papà torna sempre dalla mamma e la mamma la ignora torna sempre dalla famiglia e le sorelle la trattano male sì 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 ormai è la regola diciamo così in famiglia anche perché lei comunque ha un tipo di energia superiore a loro e quindi loro proprio in questa dinamica del parassita hanno proprio bisogno di succhiare da lei perché lo sentono che lei è fonte di vita e non va bene che lei sia cioè da un lato va bene perché loro sottraggono energia però dall'altro lato non va bene perché non deve essere così vitale lei deve essere appiattita come loro infelice come loro beh dov'è la soluzione è chiaro che tutti vogliono una vita relazionale appagante non abbiamo scelto abbiamo scelto noi questo tipo di vita ma di fatto consciamente veniamo al mondo papà verrà venuto al mondo in una famiglia in cui la madre non la voleva quindi marchio di fabbrica non avrai una relazione felice dove sta la soluzione anzitutto anzitutto nell'allontanarsi dalla famiglia guarda per esempio mi fa vedere che benché il padre sia morto è come non fosse morto cioè ovviamente lo è però è come se fosse rimasta quell'impronta dell'uomo che non ha rispetto dell'uomo che non ama dell'uomo che chi giocherà qualche brutto scherzo che si approfitterà di te che ti userà quindi non è solo la questione mamma ma è anche proprio la questione del papà bene soluzioni continuare a passare il natale in famiglia sentirsi figlia della sorgente questa è la soluzione che è poi la verità continuare a trovare persone che ti trattano male che ti ignorano che non ti chiedono come stai direi proprio di no farsi una ragione di non avere di fatto una famiglia che ora lei ha compreso farsi una ragione del fatto che lei ora ha compreso che quella di fatto solo nel gioco è la sua famiglia ok ma siccome lei non vuole più gestire questo gioco così lei può scegliere di diradare moltissimo queste visite lei non è non è pronta a annullarle le visite ma a ridurle drasticamente questo sì però deve sviluppare questo senso questa comprensione che lei è figlia della sorgente ed è genitore di se stessa questi sono solo i genitori che lei ha scelto all'interno di un gioco per ricordare ed apprendere alcune cose ma non sono i veri genitori non sono le vere sorelle non sono tantomeno quelle che stabiliscono quanto lei vale quanto lei è brava esiste una fiamma nella vita di papà con le condizioni di oggi allora mi sfugge dove lei lavori perché mi dà come una scuola io non so se lei frequenta in qualche modo anche delle scuole perché me lo dà in una scuola come se fosse impiegato anche lui non credo che sia un insegnante in una scuola mi dice lavora all'interno di una scuola quindi c'è la fiamma sì c'è ed è un uomo che è stato solo per un bel po' di tempo chiamalo nel cinema è commosso è commosso ed emozionato perché lui ha aspettato papavero tanto quanto papavero ha aspettato lui ha una vita simile familiare e adesso mi sta parlando di molta solitudine che penso sia stato il suo stato d'animo da sempre no però penso che adesso sia diventata proprio anche solitudine che non ha persone intorno e penso di sì che si sia sacrificato davvero tanto per i familiari quindi hanno questo punto in comune non so perché continuare a portarmi sta a scuola non riesco a capire se hanno fatto la scuola insieme o non lo so scuola scuola qualcosa che li accomuna è relativamente alla scuola come se li unisse la scuola non capisco hanno fatto la scuola insieme hanno fatto la scuola insieme vediamo no non hanno fatto la scuola insieme però può darsi che sia una scuola di riferimento che entrambi conoscono che per qualche ragione lei è collegata perché conosce qualcuno che però in qualche modo c'entra sta scuola dove si mette la fiamma nel cinema si mette in seconda fila ed è comunque molto luminoso anzi entrando nel cinema ha cresciuto la sua luce come è dentro la fiamma di papavero un kaleidoscopio anche lui mi viene tanti sassolini colorati come se fossero delle micro caramelle tutte colorate quindi perché forse lui è come se fosse un po' più pratico su certe cose più concreto però anche lui molto luminoso molto colorato va bene andiamo con papavero al cluster non so perché mi ha lasciato un bracciale o una collanina che si utilizza per le preghiere penso che siano cose vecchie allora quello che mi rimanda è che a tratti lei si sente molto potente a tratti molto impotente e quando si sente molto impotente non crede non sente che il potere possa arrivare da lei lei connessa alla sorgente ed è come se affidasse il proprio potere e la possibilità di volgere le cose in un altro modo a chissà chi cioè chi a chissà chi non so a chissà chi non so chi può essere che può aiutare quindi questo cluster come lo vedi questo è rappresentato da questa specie di se non è proprio un rosario ecco però come idea tu supplichi tu stai supplicando lei a volte si lei entra in una modalità di supplica lo teniamo no non è più tempo per inginocchiarsi davanti a nulla non è più tempo di supplicare che la vita mi faccia stare meglio quindi lo toglie sì sì assolutamente lo lancia nel portale definitivo come un lazzo sì e qui cosa mette ormai è la sua terza sessione quindi sa bene qual è l'iter vediamo se lo fa da sola è come se facesse un piatto al flambè no quindi da questa pentola che ha iniziato a sfiammare parte la deternum perché diventa proprio una fiamma perché lei ha anche tanta voglia di fiamma quindi da questa fiamma della pentola viene emanato la deternum che comunque è altrettanto infuocato avatar c'è qualcosa come un piede per schiacciarla no piede destra che poteva schiacciarla lo toglie sì assolutamente lei non si fa più schiacciare lei non supplica più quindi via bene abbiamo pulito nuovamente tutto verifichiamo che leone leonessa e polipo non ci sia 2 dl non ci siamo più no non ci sono più ok vediamo se padre o padre e parassiti ci sono ancora oppure no 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 impianti no big bubble all over il programma no no c'è un nuovo programma abbraccia aperte vedo lei che abbraccia proprio la vita abbraccia se stessa e la vita quindi per esempio invece che andare con grande intensità e frequenza a braccia aperte dai suoi familiari a prendersi insulti potrebbe andare a farsi a braccia aperte una passeggiata nel bosco è chiaro potrebbe farsi un giro sul lago a braccia aperte potrebbe andare a trovare la sua amica se poi la vedo piacevole nel senso che intavola anche delle conversazioni piacevoli per cui fa anche delle conoscenze perché è una persona con cui ci si intrattiene volentieri nuova frequenza mi viene 358 consapevolezza 195 anima 58 896 stanno scendendo è dato più sensibile questo tipo pavero cervello 9.8 suscettibilità ipnotica circa 60 65 va bene allora i valori all'inizio erano ottimi buoni adesso sono ottimi tuttavia c'erano tante interferenze quindi adesso aspettiamo che la sessione faccia il suo lavoro no anche ma soprattutto occorre attivare dei cambiamenti cambiamenti continui lavoro su se stessa su noi stessi costante quotidiano ora dopo ora pattern comportamentali sedimentati ormai dentro di noi da analizzare ogni volta dalle piccole cose alle grandi cose istinto 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 meno mente meno mente meno mente per esempio perché non farsi una passeggiata con un acquazzone e un ombrello non ha senso la mente direbbe oggi stai a casa guardi la televisione la televisione potete anche buttarla già un ottimo livello di consapevolezza quello non la guardo poco no solo i telegiornali non la guardate vi cambia la vita provare per credere e iniziate a diventare esseri senzienti e non deficienti zombie che camminano leggete eccetera eccetera questi sono piccoli consigli e sono soprattutto con l'esempio della passeggiata camminando sotto la pioggia è un esempio può essere una nuova esperienza illogica specialmente se uno se la sente istinto politica mentre dicevo queste cose che ti è arrivato che ha voglia proprio di nutrirsi di bellezza di colori e di sensazioni buone una di queste sensazioni buone sicuramente è la meraviglia dell'acqua che viene giù dal cielo e che lei può sentire anche solo tirando fuori il braccio sporgendolo oltre l'ombrello vedere il cielo come è cambiato poi mi fa vedere l'emozione che lei prova nel momento in cui fa una specie di modifica a una camicia dandole un altro aspetto che la valorizza molto e valorizza proprio il suo lato artistico mi fa vedere come non so se a lei piace cambiare le cose della casa spostare a riorganizzare è brava nel farlo a proprio gusto eccoci ci becca proprio e poi vedo adesso per esempio mi fa vedere che è andata sul balcone e anche proprio la capacità di occuparsi delle piante anche di curarle nel caso in cui poi dovessero manifestare qualche parassita va bene messaggio di papavero alla madre sono piena di me nel senso di sono piena dell'amore che io ho per me alle sorelle non mi lascio più sciuppare da nessuno dovete comprendere ancora molto e tuttavia vi voglio bene alla fiamma la nostra ultima parte di vita sarà la più bella a se stessa riesco a darmi la cura che non ho mai ricevuto mi curo profondamente di me stessa a chi vuole lei è come un pensiero al mondo e lo ringrazia per la sua bellezza per le emozioni che lei prova a se stessa quando si è vista luce luce non luce lo provo intensamente veramente e replico questa percezione perché è così che stanno le cose ok ci sono ancora streghe in giro no no assolutamente mi fa vedere dei fiorellini che stanno volando ci sono cose che vuoi descriverci è come se fosse già arrivato primavera stavo pensando a questa cosa ho pensato alla parola primavera e lei è in questo campo di fiori che è un po' senza senso perché ci sono fiori di varie altezze di varie specie di vari colori molto colorato molto vitale e lei li sfiora perché senza senso e in certo senso potrebbe essere senza senso perché ci sono le rose vicino c'è anche tipo un cactus poi ci sono dei fiori di campo quindi si alternano specie che dovrebbero essere per esempio d'appartamento invece delle specie di fiori più selvatiche ecco molto variegato va bene che alto è come se si sentisse molto bella molto donna qua in mezzo valorizzata da questi fiori e lei stessa è un fiore è l'essenza di un fiore ci sono anche i papadri si sente nutrita da questa visione lei che non è stata quasi allattata esatto si sente proprio completa piena sazia privilegiata sì per le difficoltà che si è regalata e che ha superato alla grandissima non è da tutti fare un lavoro come quello di papavero su se stessa tre sessioni ognuna alzato l'asticella di parecchi centimetri sì 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 decisamente vibrazione finale 522 ok ok Grazie.